benvenuti o bentornati in un video del centro studio ricerche cta 102 oggi occupiamo della incredibile storia della decifrazione della lingua maya insieme a marzio forgione ma prima di iniziare se vi piacciono le nostre attività e volete aiutarci a crescere e migliorare iscrivetevi attivate la campanella commentate condividete con tutti coloro a cui volete bene di fronte all'ingresso principale del 21st century convention center nella città bianca di merida capitale dello yucatan si erge la figura in bronzo di un uomo dall'aspetto burbero e dal gesto severo che porta in braccio un gatto siamese ai piedi nella sua scultura una targa recita nel mio cuore sarò sempre messicano yuri valentinovich knorozov pronunciò questa frase quando gli venne conferito l'ordine dell'aquila azteca nel 1994 la più alta decorazione assegnata dal governo messicano a uno straniero in questo caso un ucraino nato sotto il regime sovietico che ricevette questa medaglia all'ambasciata messicana mosca senza aver mai conosciuto il messico quell'uomo che allora aveva 72 anni non aveva decifrato niente di meno che la scrittura maia lo aveva fatto quattro decenni prima negli anni 50 a oltre diecimila chilometri di distanza dal territorio occupato del regno maia in epoca precolombiana nessuno prima di lui era riuscito a decifrare la scrittura geroglifica maia che per 500 anni era rimasta in silenzio nonostante le minuziose ricerche degli esperti maia di tutto il mondo il primo a tentare di comprenderla fu un frate francescano di nome diego de landa un feroce inquisitore che nel xvi secolo ordinò la morte di migliaia di indigeni della penisola dello yucatan e del guatemala accusati di eresia uccise gli indigeni ma mantenne i loro codici e nel 1566 scrisse l'opera relazione delle cose dello yucatan il libro del francescano tuttavia fu pubblicato solo nel 1864 a parigi grazie a una traduzione di un altro famoso missionario archeologo ed etnografo il francese brasseur de bourbourg che scoprì il manoscritto originale perduto e dimenticato all'accademia reale di storia di madrid è così che i maia arrivarono in europa quasi un secolo dopo tra le devastazioni della seconda guerra mondiale un giovane soldato sovietico appena 21enne si imbatté per caso nel libro del del anda nel bel mezzo dell'occupazione della sconfitta germania nazista nell'aprile del 1945 quel soldato del battaglione di artiglieria 580 dell'esercito sovietico era yuri knorozov che salvò dalla biblioteca prussiana nel mezzo della distruzione di berlino due libri che catturarono la sua attenzione e gli cambiarono la vita si trattava di una coppia del libro di del anda relazione della cosas de yucatan è un'edizione infaximile di los codices mayas edizione del 1933 dei fratelli villacorta con essi knorozov ritornò poi a mosca per immergersi completamente nei segreti della scrittura maya di fatto questo giovane militare era un genio quando dovette arruolarsi nell'esercito del suo paese nel 1941 era solo uno studente di storia appassionato delle avventure di sherlock holmes che suonava il violino e aveva un talento per il disegno e le lingue da solo aveva imparato a leggere in cinese arabo e greco era nato il 19 novembre 1922 lo stesso anno in cui la russia divenne l'unione sovietica annettendo l'ucraina dove la sua famiglia viveva nel piccolo villaggio di yuzni era il più giovane di cinque fratelli e da bambino mostrava un'intelligenza precoce che i suoi genitori intellettuali dell'epoca incoraggiavano con lettura e musica gli insegnarono ad esempio a scrivere con due mani in modo da esercitare entrambi gli emisferi del cervello aveva anche una nonna attrice nota per i suoi doni come ipnotizzatrice la quale influenzò il suo interesse per la mente e lo portò in seguito a scegliere la psicoterapia come sua prima carriera iscrivendosi presso la facoltà di medicina di kharkov purtroppo però malato di tiroide il giovane knorzov rinunciò a questa carriera e finì a scrivere per la storia solo due anni dopo essere entrato all'università scoppiò la seconda guerra mondiale e knorozov dovette arruolarsi nell'esercito nonostante le sue fragili condizioni di salute alcuni dicono che questa fragilità gli abbia salvato la vita tenendolo così lontano dai fronti della battaglia i suoi compiti si dice erano quelli di scavare trincee e servire da insegnante per gli altri soldati in ogni caso fece parte di quell'esercito sovietico che il 2 maggio 1945 alzò la sua bandiera sul reichstag nella città di berlino dove il giovane soldato si imbatté nei maia la leggenda narra che knorozov abbia salvato il libro di delanda e la riproduzione dei codici maia da un incendio che avrebbe distrutto la biblioteca prussiana anni dopo chiarì l'aneddoto in un'intervista dicendo è una leggenda non c'era incendio le autorità tedesche stavano predisponendo la biblioteca per l'evacuazione per trasferirla presumibilmente sulle alpi in austria i libri messi nelle scatole erano in mezzo alla strada così io ne ho scelti due passò del tempo prima che knorozov riuscisse ad approfondire i segreti dei codici maia ritornato nel suo paese nell'autunno del 1945 abbandonò la storia dell'etnografia all'università lomonosov di mosca per intraprendere delle spedizioni archeologiche e etnografiche nella regione dell'asia centrale lì si interessò alle pratiche sciamaniche e ai riti ancestrali delle confraternite sufi i musulmani che praticavano la loro religione segretamente alle spalle del regime sovietico insieme ai suoi studi sullo sciamanesimo knorozov si specializzò in egittologia e lingue antiche le sue indagini lo portarono a mettere le mani su un testo che sfidava la sua intelligenza era un articolo intitolato la decifrazione delle scritture maia un problema insolubile articolo scritto dal tedesco paul scellas la sua lettura l'uncuriosi così tanto che abbandonò tutto per dedicarsi completamente allo studio della scrittura maia malgrado l'opposizione dei suoi insegnanti molti pensavano che fosse troppo giovane e inesperto per intraprendere un compito di quella dimensione la sua risposta all'incredulità fu qualsiasi sistema o codice creato da un essere umano può essere risolto da qualsiasi altro essere umano unico accademico a fidarsi di lui e a sostenerlo fu sergei tokarev suo professore knorozov si mise quindi al lavoro e iniziò imparando prima lo spagnolo e ottenendo dei facsimili dei codici maya la dresda parigi e madrid erano i tempi della guerra fredda e la cortina di ferro impedì al ricercatore di lasciare l'unione sovietica pertanto tutto ciò che egli imparò sui maya lo yucatan e il messico lo ricavò attraverso libri e documenti infatti fu solo negli anni 90 che knorozov riuscì a vedere di persona le iscrizioni le sculture le steli e le grandi città maia nel frattempo dovette accontentarsi di svolgere le sue indagini dal suo ufficio a leningrado secondo il celebre archeologo pedro ximenez lara lo fece applicando l'analisi strutturale sistematica e il metodo delle statistiche posizionali per identificare la frequenza con cui un segno viene utilizzato all'interno di un testo a differenza dell'inquisitore francescano de landa che voleva trovare un equivalente dei segni maya per ogni lettera dell'alfabeto spagnolo knorozov scoprì che non c'era equivalenza perché la scrittura maya era sillabica composta da 355 segni fonetici e morfemico sillabici cioè che i glifi scritti dagli antichi maya consistevano sia di l'hologrammi segni usati per rappresentare una parola completa che disegni fonetici in cui ogni glifo rappresenta una combinazione consonante vocale inoltre egli si rese conto che la complessità della scrittura maya era data dal fatto che ogni parola poteva essere scritta in tre modi diversi in modo ideografico con un sistema fonetico ideografico oppure in modo fonetico grazie alle sue intuizioni knorozov riuscì infine a pervenire alla scoperta della chiave che nel 1952 gli permise di decifrare il sistema maya e a renderla nota con un articolo accademico intitolato the ancient writing of central america pubblicato sulla rivista sovietica sovietskaya etnografia in seguito a questa straordinaria scoperta a knorozov fu chiesto forse anche un po' provocatoriamente come potesse spiegare il fatto di essere stato proprio lui a decifrare la scrittura maya egli semplicemente rispose che la maggior parte di coloro che ci avevano provato prima erano archeologi mentre lui sostanzialmente era un linguista fu così che la scoperta di knorozov pose fine ad un'attesa di cinque secoli nel mondo accademico e della ricerca tuttavia gli esperti dell'epoca non riconobbero facilmente il successo dello scienziato sovietico anzi questi lo denigrarono definendolo un comunista come lo apostrofò il celebre studioso inglese eric thompson lo specialista di cultura maya più rispettato dell'epoca al britannico non piaceva il suo collega sovietico perché le sue scoperte smentivano la sua stessa teoria thompson aveva scritto nel 1950 l'opera scrittura geroglifica maya un'introduzione in cui negava il fonetismo dei maya le scoperte di knorozov due anni dopo screditarono invece completamente i suoi studi nonostante gli attacchi e gli interrogatori diretti di thompson il lavoro di knorozov fu in grado di varcare i confini e nel 1956 il governo sovietico gli concesse finalmente il permesso di recarsi a copenhagen per presentare le sue ricerche in una conferenza davanti a un centinaio di studiosi di storia e cultura maya un altro maianista britannico michael di cuo e una volta raccontò che thompson poco prima della sua morte gli confidò non vedrò più i risultati delle ricerche che si stanno facendo sulla scrittura dei maia ma tu vivrai comunque e capirai chi aveva ragione io o quel maledetto russo in realtà knorozov non fu affondato affatto dalla critica ma il suo riconoscimento fu semplicemente rinviato poiché sebbene sia stato solo nel 1970 che il suo metodo venne riconosciuto e applicato definitivamente da quel momento in poi nessuno ne ha mai messo più in dubbio la serietà e l'efficacia nel suo libro del 1992 breaking the maya code l'antropologo e archeologo michael douglas coi considerato uno dei massimi studiosi del ventesimo secolo sulla civiltà maya ha riconosciuto ufficialmente la saggezza di knorozov e gli errori di thompson tanto da affermare in un'intervista ora siamo tutti knorozovisti sta di fatto che sebbene l'occidente avesse inizialmente chiuso la porta alla ricerca dello scienziato sovietico al contrario nel suo paese egli suscitò l'interesse di molti studenti per le culture precolombiane dell'america centrale l'accademia delle scienze dell'unione sovietica ad esempio pubblicò america latina una rivista specializzata che diffondeva le ricerche di knorozov e di altri specialisti sovietici l'università di mosca creò anche il centro di studi centroamericani yuri knorozov per preservare la sua eredità scientifica fu così che per decenni gli etnografi centroamericani dovettero andare a mosca per incontrare e ascoltare la voce dei loro antenati precolombiani se le circostanze in cui knorozov incontrò i maia erano insolite durante una guerra più eccezionale ancora era il fatto che egli avesse svolto i suoi studi senza conoscere l'america tantomeno la regione maia del messico e del guatemala infatti il suo primo viaggio nel continente risale al 1991 quando si recò in guatemala nel pieno del crollo del regime sovietico lì poté visitare la zona archeologica di tical e huaxacattu riceve l'ordine del quetzal la più importante onorificenza del governo guatemalteco a mosca poi nel 1994 il governo messicano gli conferì presso la sua ambasciata l'ordine dell'aquila azteca e finalmente un anno dopo lo studioso poteva visitare il paese lui si recò nella zona archeologica di palenque nel chapas e nel parco ecologico di xcaret nel quintana ro dove qui partecipò al terzo congresso internazionale di studi sui maia oggi tutta la sua opera è tradotta in spagnolo e negli stati dello yucatan di campece e del chapas sono presenti diversi centri culturali e di ricerca sulla cultura maya che portano il suo nome a solo quattro anni dal suo viaggio in messico il 30 marzo 1999 iuri valentinovic knorozov morì nei corridoi di un ospedale vittima di un ictus fu sepolto in un dismesso cimitero nei pressi di una vecchia discarica di rifiuti a san pietroburgo l'ex leningrado il piccolo monumento funebre a lui dedicato è costituito da una stele nel caratteristico stile maya sul fronte vi è un basso rilievo che lo ritrae con in braccio asia la sua amata gatta siamese sui lati vi è scolpita sempre con glifi maia la sua data di nascita e di morte sul retro vi è invece una coppia di un basso rilievo tratto dalla città di palente il sito più amato dallo studioso questa è la incredibile straordinaria storia de il cavaliere rosso come pedro ximenez lara definì knorozov il russo messicano che decifrò la scrittura maya aprendoci le porte alla sua vasta e complessa cultura